Milano centro casa 261 un episodio come tanti questa è una casa per bocconi renta qui ci vuole il metodo bocconi renta rinfrescare la casa senza ristrutturare massimizzare il numero di camere da letto ciò per cui pagano i conduttori proporre una locazione unica a più conduttori in solido nessun intermediario il locatore percepisce l'intero canone soluzione 1 tre stanze da letto in più e già abbiamo un aumento di rendita a tutto questo ci pensa bocconi renta la casa è felicemente risolta